Buonasera, è stata una giornata davvero frenetica di incontri, di riunioni, di consultazioni che potrebbero nelle prossime ore dar vita al nuovo DPCM al quale sta lavorando il governo. Queste sono le notizie importanti della giornata. Un DPCM di cui circolano alcune bozze e che dovrebbe servire con nuove, più incisive misure a rallentare il contagio in Italia. Di che cosa si parla? In questo momento sono in corso altri incontri. Governo regioni, c'è stato l'incontro con il Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente del Consiglio ha sentito anche le opposizioni. Insomma, una giornata proprio dedicata a cercare di mettere a punto le nuove misure. Di che cosa si parla? Si parla di una chiusura anticipata, le 18, con chiusura completa nei giorni festivi e nelle domeniche per bar e ristoranti. Questo è tutto a bozza, naturalmente. Si parla di una didattica a distanza che dovrebbe essere al 75% per le scuole superiori, mentre gli altri ordini e gradi di scuola dovrebbero continuare a lavorare dal vivo. Si parla anche di chiusura di piscine e centri sportivi e palestre, insomma. E potrebbe esserci anche limitazioni nello spostamento fra le regioni. C'è anche un invito, questo sempre a livello di indiscrezioni, di documenti di lavoro, a rimanere nel proprio comune, se non per necessità di lavoro o di studio. Queste, nelle grandi linee, i provvedimenti ai quali sta lavorando il Governo, che li sta in questo momento verificando con le regioni, regioni che hanno chiesto a gran voce che sia uniformata la situazione a livello nazionale. Sta per partire anche la Sicilia, comunque, fra le sei regioni che attuano quelle chiusure notturne fra le 11 e mezzanotte e fino alle 5 del mattino. Tutto questo in una situazione in cui i contagi sono rimasti molto alti, sopra i 19.000, 19.600 e ancora qualche cosa. Purtroppo però sono cresciuti i morti, sono 60 più di ieri, 151, con la pressione che continua a crescere ed è quella che spaventa sulle terapie intensive, sui letti normali ospedalieri per l'emergenza Covid, ma adesso è questo l'allarme del giorno anche sui pronto soccorso che sono letteralmente oberati dalle persone che si accostano per l'idea di essere stati contagiati. Questo il quadro italiano al quale dobbiamo aggiungere la nuova giornata di tensione che c'è stata a Napoli dove poco fa nel pomeriggio nuovi scontri dopo quelli della notte, violenti e tutti ancora da scoprire per gli autori, anche se il ministro dell'interno Lamorgese dice che si è trattato di attacchi preordinati e inaccettabili. De Luca va avanti. Tanto altro nel telegiornale, racconteremo anche quali sono i dati dell'Europa che sono veramente molto alti e continuano a crescere. In Germania la cancelliera Merkel ha rinnovato l'appello di una settimana fa a rimanere nelle proprie case. In Germania i contagi sono meno che in Italia ma la situazione è preoccupante anche lì e poi tutti gli altri. Ci sarà tempo anche per parlare della campagna elettorale americana. Oggi ha votato Trump che poi è corso in giro per il Paese a cercare di raccogliere voti per battere fra dieci giorni Joe Biden, il ribale democratico. Pochi secondi e ci sono i titoli. Il governo si prepara a varare un nuovo DPCM per frenare l'aumento dei contagi. Nella bozza si ipotizza la chiusura di palestre e piscine, stop anche a cinema e teatri. Per bar e ristoranti si va verso la serrata dalle 18 e la domenica. Più didattica a distanza per le sole scuole superiori. Si valuta poi se limitare gli spostamenti tra le regioni con l'invito a non lasciare il proprio comune. Le misure dovrebbero essere in vigore per tutto il mese di novembre. È stata una giornata fitta di incontri e di contatti. Il ministro della Salute e Speranza ha riunito il comitato tecnico scientifico. Il governo si confronta anche con le regioni che chiedono di uniformare le misure a livello nazionale. Il premier ha incontrato i rappresentanti dell'opposizione per illustrare i nuovi provvedimenti allo studio. Dopo una notte di guerriglia urbana ancora tensione e scontri a Napoli dove nel pomeriggio i centri sociali hanno manifestato contro gli effetti delle chiusure già decise dal governatore De Luca. Si indaga sulla notte di scontri e di attacchi preordinati e di violenze inaccettabili ha parlato il ministro dell'interno Lamorgese. Si cerca di scoprire chi abbia fomentato queste azioni. E intanto continua a crescere il numero dei contagi. Sono oltre 19.600 i nuovi casi nelle ultime 24 ore con ben 151 decessi che sono 60 più di ieri. Oltre 177.000 i tamponi effettuati. Cresce ancora il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Un quarto dei nuovi contagi è ancora in Lombardia. In tutta Italia intanto i pronto soccorso sono letteralmente presi d'assalto. Situazione drammatica. Denunciano i medici d'urgenza. Donald Trump ha già votato in Florida per poi tuffarsi nuovamente nella campagna elettorale. Per il presidente comizi in Wisconsin, North Carolina e Ohio. A dieci giorni dal voto i sondaggi danno lo sfidante Biden ancora in netto vantaggio ma Trump crede nella rimonta negli stati chiavi e con le regole del sistema elettorale statunitense ogni pronostico rischia di essere smentito. Buonasera. Allora una giornata davvero frenetica quella che si è svolta a livello politico e istituzionale perché i contagi continuano a crescere. Oggi sono aumentati di poco con qualche tampone in meno ma ci sono cento e cinquanta morti cioè molti più della giornata precedente. In questo quadro con le regioni in pressing per uniformare a livello nazionale quei lockdown limitati, quelle chiusure notturne che già diverse regioni hanno deciso il governo a questo punto ha preso l'iniziativa. Ci sono state una serie di incontri, il comitato tecnico scientifico, Conte che ha incontrato maggioranza e opposizione per illustrare i provvedimenti allo studio, le stesse regioni. Si lavora un nuovo DPCM che potrebbe arrivare già nelle prossime ore e le ultime agenzie proprio pochi minuti fa sostengono che il Premier, secondo quanto si apprende da qualificate fonti di governo, potrebbe firmare il nuovo decreto solo nella giornata di domani perché il testo sarebbe suscettibile in queste ore di ulteriori modifiche. Ma vediamo qual è la bozza alla quale il governo sta lavorando. Possibile chiusura di ristoranti, bar, pub e pasticcerie alle 18 da lunedì e per tutto il giorno, la domenica e i festivi e come preannunciato lo stop per piscine e palestre. Per quanto riguarda la scuola, aumento della data per le superiori fino al 75%, mentre dovrebbe restare in presenza la scuola primaria. Queste alcune delle misure che il governo sta limando in queste ore, scontando anche un non perfetto allineamento tra le posizioni dei vari partiti, ma che vanno verso una vera stretta dopo che il DPCM della scorsa settimana è stato ampiamente superato dal numero dei contagi. Necessario intervenire all'annuncio del Premier questa mattina. Se non proteggeremo la salute dei cittadini non potremo proteggere l'economia. Da qui le misure che potrebbero divenire ufficiali già questa sera. Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dal nucleo familiare, salvo che per ragioni urgenti, così come di evitare gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza. Potrebbe invece essere normato con un divieto esplicito, lo preannuncia il Ministro Boccia, lo spostamento tra le regioni. Stretta sulle sale da gioco e sale scommesse che verranno chiuse, così come cinema e teatri. Feste vietate al chiuso e all'aperto anche dopo a cerimonie religiose. Possibile anche che la chiusura di alcune piazze che alcune regioni hanno fissato tra le 23 e mezzanotte venga anticipata alle 21. Nei corridoi di Palazzo Chigi è vietato pronunciare la parola lockdown, ma è impossibile con il quadro sanitario di queste ore non stringere i bulloni. Ma questa volta dovranno cambiare anche le modalità. Necessario non rivedere il fin di marzo e aprile con lo scontro tra governo centrale e regioni e tra opposizioni e maggioranza. Con Mattarella questa mattina che indica la via auspicando la leale collaborazione tra istituzioni. Per tutto il giorno si susseguono infatti le riunioni. La mattina conta incontra i capi delegazione del governo un giro di orizzonte prima che il Ministro Boccia convochi le regioni insieme al Ministro Speranzi e al Commissario Arcuri per annunciare e concordare il nuovo intervento. Meglio limare prima che scontrarsi dopo. In quest'ottica Conte chiama i leader dell'opposizione, lo aveva fatto anche la scorsa settimana prima del DPCM, ma questa volta sceglie anche il passaggio formale dell'incontro seppur virtuale con i capogruppo di maggioranza e opposizione, promettendo un decreto la prossima settimana con misure economiche per i settori che verranno penalizzati dalle chiusure. Un modo per sterilizzare le polemiche che inevitabili arrivano. A caldo Salvini spiega, Conte telefona per preannunciare, non condividere o discutere una nuova stretta, ma invece di puntare su limiti e chiusure bisognerebbe tutelare i soggetti più fragili, gli anziani e i malati senza richiudere in casa 60 milioni di italiani. Allora, come capirete, si tratta di misure comunque vigorose, anche se non è il lockdown, lo diceva, il servizio non si parla di lockdown, ma sicuramente di una serie di chiusure mirate che vogliono rallentare la corsa del contagio a livello nazionale. Ma naturalmente è difficile mettere d'accordo tutti nella maggioranza e anche consultare l'opposizione su questo. Da qui, allora, questo lavoro di consultazione e di incontri che sta andando avanti e che si sta protraendo, perché la bozza è cominciata a circolare nel primissimo pomeriggio e naturalmente la si sta limando nelle sue diverse parti. Ma c'è da dare subito, prima ancora, delle notizie sui numeri, che peraltro vi ho già anticipato, oltre 19.600 nuovi casi, c'è da dare subito notizia di quello che anche oggi nel pomeriggio è accaduto a Napoli. Nella notte c'erano state scene di guerriglia intorno al Palazzo della Regione e nel centro del capoluogo campano, proprio mentre cominciava quel coprifuoco, chiamiamolo così, quella chiusura dalle 23 alle 5 del mattino. Poco fa si sono ripetuti quegli incidenti che il ministro Lamorgese ha definito preordinati e inaccettabili. Dopo la lunga notte delle protesti a Napoli resta alta la tensione. In piazza dei Marti di quartiere Chiaia una manifestazione dei disoccupati organizzati e varie sigle di lavoratori e Cobast contro gli effetti di un eventuale lockdown sull'occupazione ha portato nel pomeriggio a tafferugli con le forze dell'ordine. I manifestanti avrebbero voluto mettersi in marcia verso piazza del Prebiscito, ma le forze dell'ordine hanno formato un cordone che i disoccupati hanno cercato di forzare. Da qui il lancio di bottiglie contro gli agenti e l'esplosione di bombe carte. C'è stata una carica della polizia. Attacchi preordinati, così il ministro dell'interno Luciano Lamorgese ha definito le scene da guerriglia urbana che si sono verificate la notte scorsa contro i provvedimenti del governatore De Luca con le aggressioni alle forze dell'ordine e ad alcuni giornalisti. Episodi che nulla hanno a che fare con le forme di distenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legati alla difficile situazione economica ha detto. Tre cortei si sono intrecciati nelle strade del centro per arrivare davanti al palazzo della regione alle spalle del lungomare. Sono partiti con intenzioni pacifiche ma in pochi minuti si è scatenato l'inferno con il lancio di sassi fumogeni e l'incendio dei cassonetti fino agli scontri con tre poliziotti e quattro carabinieri feriti. Gruppi di infiltrati hanno agito con decine di scutere per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine e favorire i facinorosi. La Digos ha affermato due manifestanti hanno precedenti per droga, processati e condannati per direttissima sono in libertà. Uno ha ottenuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, condannato ad un anno e otto mesi, l'altro a un anno e due mesi con pena sospesa. Tra i manifestanti erano nascosti gruppi di antagonisti e di professionisti degli scontri di piazza, estremisti di solito provocano disordini anche allo stadio, ha detto il questore Giuliano. E non si esclude la mano della criminalità organizzata dietro la guerriglia. Le indagini mirano a identificare gli autori delle violenze, la protesta ha portato finora per le strade, centri sociali, estremisti di destra, di forza nuova e frange di tifosi violenti. Uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata che nulla ha a che spartire con le categorie sociali, commenta il governatore Campano. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l'immagine della città. Una notte buia per la città, di tristezza per i napoletani, ha detto il sindaco di Magistris, che ha sottolineato il rischio di contagio criminale di gruppi che possano strumentalizzare il forte disagio sociale. Sul fronte sanitario scende di poco la curva dei contagi. Il bollettino di oggi in Campania indica nelle ultime 24 ore 1718 nuovi casi positivi e 8 vittime. Avete sentito la Campania, ma qual è il quadro nazionale? Sostanzialmente è simile a quello di ieri con i nuovi casi, i nuovi contagiati che crescono di oltre 19.000 persone, anche se non tutti, e continuiamo a ripeterlo, non si tratta sempre di casi gravi o da ospedale, anche se la pressione sulle strutture ospedaliere sta crescendo sempre, sia sulle terapie intensive che nei reparti tradizionali. E questo è molto preoccupante, anche perché, ne parleremo subito dopo, il nuovo allarme riguarda altre strutture, i pronto soccorso. Ma partiamo dai numeri di oggi e in Italia. Anche oggi si è a un passo dai 20.000 casi, i nuovi contagi sono 19.644, ancora in aumento, nonostante siano stati processati 5.000 tamponi in meno rispetto a ieri, 177.000 in tutto. Ad aumentare molto sono anche le vittime 151, ieri erano 91. Preoccupa il bilancio delle persone finite in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono state 738 quelle ricoverate nei reparti covid. Ora in tutta Italia sono più di 11.000. Ancora più preoccupante è il balzo delle terapie intensive, quasi 80 in più per un totale di 1.128. Con i nuovi numeri di oggi, le persone che dall'inizio della pandemia hanno contratto il virus, comprese vittime e guariti, sfonda così il limite del mezzo milione, esattamente 504.509. Anche oggi la regione con la cifra più alta è la Lombardia, che sfiora i 5.000 contagi. Sono ormai 8 le regioni con oltre 1.000 casi, con l'indice di contagio che a livello nazionale ha una media dell'1,5%. Dietro alla Lombardia c'è il Veneto, in costante crescita, 1.729 nuovi positivi. Poi la Campania, nonostante una lieve frenata, e in Lazio, dove si richiamano i medici in pensione, così come in Puglia. Si cercano soprattutto anestesisti e rianimatori. In queste ore, in attesa del nuovo decreto del governo, i governatori continuano ad adottare provvedimenti per difendere i loro territori dal virus. Ultimo, in ordine di tempo, il presidente della Sicilia, Musumeci, che ha emanato un'ordinanza per il coprifuoco notturno, la didattica a distanza e il limite nei mezzi di trasporti ridotto al 50%. Salgono così a sé le regioni che hanno adottato misure restrittive. Oltre alla Sicilia, ci sono Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte e Calabria. D'altra parte, continuano ad arrivare segnali d'allarme per comportamenti non proprio assennati. Questi scatti arrivano da Cervinia, dove oggi si è aperta la stagione invernale. Centinaia di persone ammassate davanti agli impianti e nelle funivie. Appena ieri, il Comitato Tecnico Scientifico aveva lanciato un forte appello a tutti i cittadini. Rimanete a casa. Veramente immagini impressionanti. Quella coda è impressionante in momenti di distanziamento e di necessità di mantenere la sicurezza personale. L'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere intanto che l'età media dei contagiati è scesa molto a 53 anni negli ultimi tempi, nell'ultimo mese addirittura intorno ai 40, mentre i morti continuano ad avere un'età media di circa 80 anni. Ma poi c'è l'emergenza della quale vi parlavo prima. I numeri sono molto più grandi di quanto non fossero a marzo durante la prima ondata e a questo punto la pressione è insopportabile per altre strutture, non solo i reparti tradizionali e le terapie intensive. I pronto soccorso. Se a marzo e aprile nella prima fase dell'emergenza sanitaria erano le terapie intensive a essere intasate di malati covid, adesso sono i pronto soccorso la prima linea di questa seconda ondata. Le file di ambulanze in attesa per ore, ma una volta entrati i pazienti aspettano ancora. Anche tre o cinque giorni, denuncia il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Salvatore Manca. Oggi, dopo giorni di allarmi lanciati dagli ospedali di tutta Italia, rincara la dose. La situazione è drammatica, non ce la facciamo più a reggere. Troppi pazienti che arrivano al pronto soccorso con sintomi riconducibili al covid, le zone di osservazioni brevi intensive trasformate in mini reparti dove iniziano ad essere curati e dove rimangono in attesa di un posto letto nei reparti dedicati che però non si trovano. Questa difficoltà delle perine dei posti letto nei reparti covid è legato verosimilmente anche alla difficoltà della dimissione che questi stessi reparti stanno avendo a causa probabilmente di una organizzazione proprio non ottimale a livello dei servizi territoriali. Alla fame di posti si aggiunge la carenza di personale, medici e infermieri specializzati. Quelli genovesi chiedono al governatore Totti il lockdown per tutta la regione. Non c'è più tempo, scrivono sui social. Siamo in un momento di alta criticità, ci dice il primario del pronto soccorso dell'ospedale Galliere di Genova, dove le ambulanze aspettano in coda per ore. I pronti soccorsi devono essere riservati ai casi veri, alle insufficienze respiratorie vere, alle febbre alte che non rispondono, a coloro che stanno male. Capisco che assolutamente la paura c'è ed esiste. I pochi disturbi, la poca febbre devono assolutamente stare a casa ed essere curati a casa. La catena dell'emergenza inizia però ben prima. Sono le centrali operative dei 118, il primo filtro delle chiamate di soccorso, per poi inviare le ambulanze. Nel centro Areu di Milano da una settimana ne arrivano circa 1800 al giorno. In era pre-covid erano tra 1000 e 1200. A metà giornata avevano già inviato oltre 900 ambulanze. Se uno ha un sintomo grave sa che deve chiamare noi e noi interveniamo. E laddove ci sono magari sintomatologie un po' più lievi, un po' più sfocate, la gente inizia ad avere un po' di confusione. E in questo vi consigliamo di chiamare i medici curanti che sono il punto di riferimento per questa situazione. Ciao, avete visto l'ultima intervista dalla Lombardia. È quella la regione nella quale si concentra il maggior numero di nuovi contagi, un quarto, circa 5.000. È la fase espansiva del virus in Lombardia che negli ultimi giorni è passata da crescita lineare a esponenziale e che ogni giorno trova riscontro nei numeri a preoccupare. Oggi di nuovo quasi 5.000 contagi nella regione più colpita d'Italia, di questi 2.306 solo nella provincia di Milano e ancora sopra i 1.000 in città. Aumentano tanto, le vittime sono 51, ieri erano 7. Secondo gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico Lombardo, è iniziata una corsa contro il tempo per salvare Milano, il nuovo epicentro del contagio, comparabile a quanto accaduto nella prima fase tra le province di Bergamo e Brescia. Ma cosa è cambiato rispetto ai primi mesi dell'emergenza? Nelle grandi città come Milano, grazie all'elevata densità di popolazione, al numero degli scambi per motivi lavorativi e commerciali, si è raggiunta una grandissima diffusione facilitata dall'incremento nel numero di contatti e dalla presenza di gran numero di asintomatici che hanno in qualche modo determinato un'ampia diffusione nella comunità dei casi. La diffusione in modo incontrollato del virus mette nuovamente pressione sugli ospedali lombardi che iniziano a rinviare i ricoveri programmati e non urgenti, per questo motivo sul sito della regione è stato riaperto il vecchio bando del 18 marzo scorso per reclutare altri medici, infermieri, personale sanitario specializzato, specializzandi e laureati, non c'è tempo da perdere. Preoccupa l'incremento delle terapie intensive, 213 pazienti ricoverati più 29 rispetto a ieri, i ricoverati non intensivi sono più 140. Oggi all'ospedale Infiera, nel capoluogo Lombardo, quasi inutilizzato nella prima fase dell'emergenza, sono arrivate 5 nuovi pazienti, una donna e 4 uomini, tra i 50 e i 70 anni tutti provenienti dalle aree di Varese e Milano. Nel padiglione di Fiera Milano City le intensive possono ospitare oltre 100 posti gestiti dal personale di diversi ospedali. C'è un focolaio al teatro La Scala, positivi 9 cantanti nel coro, altri due contagiati tra i professori d'orchestra dei fiati. La prima del 7 dicembre è a rischio, sono allo studio alternative per non rinunciare a uno degli eventi simbolo della città. È sempre oggi il primo weekend con i centri commerciali e outlet chiusi in tutta la Lombardia e anche l'ultimo sabato con gli studenti delle superiori in classe da lunedì didattica a distanza. Allora, mentre siamo in onda continuano le dichiarazioni politiche, maggioranza e opposizione discutono sui nuovi elementi della bozza del DPCM alla quale il governo sta lavorando, lo scontro o il confronto, se volete, è sull'orario delle chiusure di bar e ristoranti, ad esempio sul trasporto, anche sul tema caldissimo dei ristori per le categorie danneggiate. L'ultima agenzia ci dice che ancora non è stato ultimato però il DPCM, è in corso ancora il confronto con le regioni e anche all'interno della maggioranza. Il Presidente del Consiglio comunque ha già ascoltato anche l'opposizione. Conte dovrebbe firmare e illustrare le nuove misure anti-Covid nella giornata di domani. Queste le ultimissime, ma veniamo all'Europa. Noi abbiamo 19.000 contagi, ma la situazione è gravissima in tanti altri paesi, a partire dalla Germania, dove Angela Merkel rilancia l'ammonimento di una settimana fa. L'emblema della drammaticità del momento sta tutto nell'inusuale gesto di Angela Merkel che nel suo consueto video podcast settimanale, prima di affermare che la velocità e la forza di diffusione del virus dipendono dai comportamenti delle persone e che è necessario ridurre i contatti, ha riproposto il video della settimana scorsa. Vale parola per parola, ha dichiarato rilanciando il suo accorato messaggio di sette giorni fa nel quale si appellava ai cittadini affinché rimanessero a casa. Del resto, anche in Germania, i numeri del contagio hanno ormai raggiunto cifre che per quel paese rappresentano un record. 14.714 nuovi casi. La corsa del Covid-19 nella sua nuova fiammata però è velocissima in ogni zona d'Europa. In Belgio, paese con uno tra i tassi di contagio più alti del continente, secondo al mondo per numero di decessi in rapporto alla popolazione. Nuovo giro di vite per le misure restrittive già in vigore da qualche giorno. A Bruxelles, da lunedì, l'inizio del coprifuoco verrà anticipato di un'ora alle 22. I negozi chiuderanno alle 20 e tutte le attività culturali e sportive saranno vietate. Coprifuoco notturno in vigore anche in Lussemburgo e, dalla mezzanotte e mezza locale, ad Atene, Salonicco e in altre aree della Grecia. E se Francia, che giovedì e ieri ha sfondato il tetto dei 40.000 nuovi casi giornalieri, Spagna, il cui governo deciderà domani circa la dichiarazione dello stato di allerta a livello nazionale in modo da consentire alle regioni l'imposizione di coprifuoco localizzati e Gran Bretagna, che ha toccato una nuova punta di 23.012 nuove infezioni e 174 decessi nelle ultime 24 ore, continuano ad essere i paesi maggiormente nell'occhio del ciclone. Ora anche l'Europa dell'Est, investita solo superficialmente dalla prima ondata, registra numeri in continuo aumento. In Polonia tutto il paese è stato dichiarato zona rossa e anche il presidente della Repubblica, Duda, è risultato positivo al Covid-19. In Repubblica cieca gli ospedali sono sempre più sull'orlo del collasso. In Slovacchia da mezzanotte entrerà in vigore una serrata parziale, spostamenti limitati per una settimana e scuole chiuse fino al 27 novembre. La pandemia non conosce soste neanche in Russia con 16.521 nuovi casi e 296 morti nella sola giornata di ieri. Allora una notizia di politica italiana, è entrato nel vivo il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle in vista degli stati generali che si concluderanno a metà del mese di novembre. Due i temi particolarmente centrali nella discussione e anche divisivi, quello delle alleanze e quello del terzo mandato. Ritrovare lo spirito di comunità che abbiamo avuto fin dall'inizio. È l'auspicio di Vito Crimi nel weekend che apre gli stati generali 5 Stelle, i primi incontri a livello locale e ovviamente online, verso la conclusione nazionale del 14 e 15 novembre, da cui il Movimento dovrebbe ripartire con guida e obiettivi ridefiniti. Ma lo spirito di comunità invocato dal reggente è stato messo a dura prova negli ultimi tempi dagli scontri a distanza tra l'ala governista guidata da Di Maio, che vorrebbe consolidare l'alleanza con il PD, e l'ala capeggiata da Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, che si richiama alle origini di un Movimento nato per essere forza diversa e distinta dalla destra e dalla sinistra. E che respinge seccamente ogni ipotesi di terzo mandato per i parlamentari. Il limite dei due mandati è uno dei principi cardine del Movimento. Il parlamentare svolge un servizio civico per un tempo limitato, non per carriera, ricorda Casaleggio. Restare fermi a due mandati non è un'opzione, ma una regola fondativa del Movimento, aggiunge Di Battista, pronto a lasciare se la regola dovesse saltare. Quella sul terzo mandato è una discussione malsana, non è all'ordine del giorno degli stati generali. Fa male che al nostro interno partano attacchi su questo tagliacorto Di Maio, schierato perché il Movimento si doti di una guida collegiale. Oggi una sola persona non può sintetizzare tutte le anime. Due anni fa era più semplice, dice l'ex capo politico 5 Stelle. Serve un organismo sul quale scaricare valutazioni e proposte diverse. Casaleggio è invece per rafforzare il peso degli iscritti, facendo passare da loro le decisioni su ministri e nomine. Linee opposte in cerca di una difficile sintesi che rassicuri anche gli alleati di governo da mesi, in attesa che il Movimento risolva i suoi problemi interni. Andiamo negli Stati Uniti dove si avvicina il 3 novembre, il giorno delle elezioni presidenziali. Bene, Donald Trump ha già espresso il suo voto. 53 milioni di americani hanno già votato, compreso il presidente Donald Trump. Lo ha fatto oggi prendendo un aereo e arrivando a Palm Beach in Florida perché è lì che ha la residenza dopo aver abbandonato la più ostile New York. Gigioneggia il presidente. Ho votato per un tizio di nome Trump, ha detto, ma poi, complimentandosi per l'organizzazione, ha rimarcato come il voto in presenza sia decisamente più sicuro di quello per posta. Scelto in questi giorni da milioni di cittadini però. Il che fra l'altro fa pensare che queste elezioni vedranno l'affluenza più alta di sempre. Secondo le proiezioni, almeno il 65% degli aventi diritto, pari a 150 milioni di voti, decideranno la prossima presidenza contro i 137 della volta precedente. Ma a registrarsi non sono solo i democratici, anzi, l'iscrizione nelle liste elettorali dei repubblicani è stata importante elemento, visto questo ovviamente con molto interesse dai responsabili della campagna elettorale del presidente. Presidente, peraltro, soddisfatto dell'ultimo confronto che ha costretto il suo sfidante Joe Biden e la sua vice Kamala Harris a precisare una serie di affermazioni sull'industria pretolifera, fatte per l'appunto durante il duello televisivo e che Trump ha girato immediatamente a proprio favore. Perché in questi dieci giorni tutto può ancora succedere con diversi stati in bilico. E dunque si moltiplicano anche le rivelazioni sui candidati. Fa le pulci alle sbandierate campagne di beneficenza di Trump il New York Times, scoprendo che in realtà ha donato molto meno di quanto spesso dichiarato, ma secondo lo staff il presidente dà soldi privatamente e dunque è impossibile conoscere la cifra esatta. Diverso invece il conto di quanto abbia guadagnato facendo affari con la Cina. Non faccio soldi con loro, aveva detto durante il confronto televisivo, ma secondo Forbes il solo affitto di alcuni uffici delle Trump Tower alla Commercial Bank of China gli avrebbe fatto incassare qualcosa come 5 milioni e mezzo di dollari. E' così che quando la moglie di Joe Biden parla fra le zucche ad un comizio in Pensilvania può dire Biden ha un piano per calmare il caos dell'America di Trump, curerà il paese con amore e comprensione, mentre l'epidemia oggi registra un nuovo record, 80.000 5 contagi di Covid. C'è una polemica durissima della quale dare notizia fra Parigi ed Ancari. Il presidente turco Erdogan infatti ha attaccato il suo omologo francese Macron per le politiche nei confronti dei musulmani. Erdogan in un discorso televisivo ha detto che cosa si può dire a un capo di Stato che tratta in questo modo milioni di membri di diversi gruppi religiosi, prima di tutto ha aggiunto faccia dei controlli mentali, quindi una frase durissima. Il riferimento è alla risposta del presidente francese all'indomani della decapitazione del professor Patin, un liceo da parte di un integralista musulmano. Nei giorni scorsi Macron aveva annunciato l'intensificazione di azioni contro l'estremismo islamico e poco fa l'Eliseo ha replicato definendo le parole del presidente turco inaccettabili e notando come appunto il leader di Ancara non abbia manifestato la sua solidarietà al professore ucciso. Dopo di noi c'è Whatsapp e subito dopo Andrea Purgatori con il suo Atlantide stasera dedicato a Pantani, vita e morte di un pirata. Ci vediamo fra qualche istante. Allora non ci sono aggiornamenti di rilievo, continua il dibattito sul DPCM che il governo sta mettendo a punto. Se ci fossero novità durante la serata saremo pronti a darvele. Allora vi lascio Whatsapp e subito dopo c'è Atlantide. Buon proseguimento di serata, arrivederci.